La volata per l'acquisto degli under era attesa e puntualmente avvenuta. L'Avellino in mattinata si è assicurato due giovani calciatori con un ottimo curriculum, considerando che si tratta di un 98 ed un 99. Il primo è Alessio Tribuzzi, alla destra che all'occorrenza può svolgere anche il ruolo di mezzala, cresciuto nelle giovanili del Frosinone, che l'anno scorso con la maia del Latina ha disputato 33 presenze in Serie D, mettendo a referto due gol e due assist. Il secondo è Rocco Patrignani, terzino destro cresciuto nelle giovanili del Perugia, con cui l'anno scorso ha collezionato 22 presenze nel campionato primavera. Tribuzzi arriverà a titolo definitivo, essendosi svincolato dal Latina, mentre Patrignani arriverà in prestito dal Limolese, che lo aveva rilevato nella sessione estiva di mercato. Il direttore sportivo Carlo Musa aveva annunciato tre colpi e puntualmente ha rispettato le attese. Ora toccherà puntellare la Rosa con un attaccante over. Demiro Pozzebon è sempre in cima alla lista dei desideri, ma da ieri sera è stato superato da Rocco Costantino, per il quale il sodalizio erpino starebbe operando un'offensiva con la società che ne detiene il cartellino, il Sud Tirol. A quanto pare il calciatore, autore di 14 gol in Serie C nella scorsa stagione, gradirebbe il trasferimento in Irpinia, propria terra d'origine, ma la società altoatesina non sarebbe intenzionata a cederlo. Tutto verrà deciso nelle prossime ore, che vedranno sicuramente l'arrivo di un altro under, mentre per l'attaccante la scelta verrà ponderata con cura, essendo l'elemento che dovrebbe garantire il salto di qualità alla formazione di Archimede Graziani.